Ciao amici voglio farvi un brevissimo video per farvi vedere quali sono le migliori aziende su cui investire, sui cali grossissimi che anche in giornate come queste tengono il valore o calano leggermente o addirittura salgono. Andiamo su Apriamo l'app Investing che avete tutti, andiamo su Indici, non guardate l'ora che fa il mio telefono che sto dall'altra parte del mondo in ferie, sono ancora aperti i mercati americani, prendete il Dow Jones, ogni tanto sovraperforma l'SP500 e gli altri indici. E allora di solito la prima di queste c'è Coca Cola, adesso oggi sta leggermente in positivo, comunque sta sovraperformando gli indici mondiali, guardate un meno 2 dell'SP, stiamo soltanto a 0,27%, prima l'avevo guardata qualche ora fa era in verde addirittura. Di solito anche Johnson & Johnson tiene il valore, oggi non lo sta tenendo sinceramente, però c'è Procter & Gamble, Procter & Gamble e Walmart, eccola qua, queste 4 e McDonald's anche, vediamo McDonald's che sta facendo, meno 0,34%, comunque sta perdendo pochissimo. E vediamo se nella mia lista c'è qualcos'altro, vabbè Louis Vuitton ha chiuso, ha perso poco, Nestlé ha già chiuso, non fa testo, e Pepsi, ecco Pepsi Cola, togliete ExxonMobil, non la calcolate perché ExxonMobil è un petrolifero. E niente, questo è un video che vi voglio preparare una lista di aziende che stanno, che crescono sempre, nel bene o nel male, ovviamente quasi sempre.